Musica 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 Non sli Si Sì Sì Da Che Mi 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 Le prove, ma quali prove? Mi metto una firma qui, per cortesia. Perché io le ho recabitato il pacco e la firma è la conferma della venuta consegna ad un ciglio del pacco stesso. Come una grande sacco! Sì, sì, una piccola firma, è una formalità. Non ce la prenda così. L'ha sentito che cosa ha detto di mia madre su quella povera santa? Non ho fatto mente locale. Lei l'ha sentito molto bene, deve venire pure a testimoniare. Ah, sì? E allora sai cosa ti faccio io? Lo sai cosa ti faccio? Firma la ricevuta. No, io ti spacco la testa. Ma chi la spacchi la testa? A chi? Te ne approfitti perché io sono la signora. Ma vuoi? Oh, ma che mi? No, prima bisogna firmare la ricevuta. Che c'è qui dentro? Che c'è? Il casco è una permanente, è obbligatorio. Ah, pure la permanente, così butti i soldi che guadagno. Eh no, quello l'ho comprato io con i soldi miei. Lo sai dove li prende i soldi, lo sai? Ha ereditato? Ma che ereditato? Faccio la segretaria di un avvocato. Sì, la segretaria particolare, molto particolare. Particolare sì. Per mantenere un cornuto con me a te. Con me a me, dammi qua. No, prima bisogna firmare la ricevuta. Sì, te la firmo la ricevuta, tieni. Grazie. Ecco il casco, tieni. Signori, arrivederci, eh. Paccatù. Se non fa tenda. Ai quanto te. Se si rompresse. Con tuta. Bagascia. C'è la garanzia. Nettààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà